Sono stato da solo per tanto tempo, non perché lo volessi, ma perché finché non risolvo questo problema, devo stare da solo. Il vostro obiettivo è un ricercato dal governo degli Stati Uniti, che ha trafugato segreti militari. Il luogo è questo, prelevarlo e immobilizzarlo, catturarlo vivo. Prendetelo. Per quanto mi riguarda, il corpo di quell'uomo appartiene all'esercito degli Stati Uniti. Allontanati da me più che puoi. Corri! Ci sono aspetti della mia personalità che non so controllare. L'obiettivo è nel passaggio. E quando perdo il controllo, è molto pericoloso starmi vicino. Non dategli tregua, uccidetelo! Copritemi. Blonsky in azione. Rientrate subito. Tutto qui? Sai fare solo questo? Lo vogliono come arma e se lo lasciamo andare non lo recupereremo più. Se farà un altro tentativo con lui vorrei esserci. Penso di poter organizzare qualcosa del genere. Sei pronto? Sì. Giochiamo a dare un pari. Che diavolo era quello? Sta dicendo che un altro dei suoi esperimenti di bioforza è sfumato. C'è solo un modo per combatterlo ed è dentro di me. C'è solo un modo per combatterlo ed è dentro di me. Gioch! 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 Grazie a tutti.